Ecco noi Jacopo Montella delle Tre Fontane che oggi ha dato il suo splendido contributo con due assist e un gol per il 5-0 finale, risultato molto ampio con cui avete compiuto il vostro esordine nella competizione, allora voglio le prime impressioni. Sì, ci siamo divertiti in primis, è la cosa più importante, abbiamo dato una prova di maturità, ci siamo comportati molto bene, abbiamo portato a casa un buon risultato, un ottimo risultato e se le premesse sono queste speriamo vada avanti così. Sicuramente le premesse sono delle migliori, non so se avete già avuto modo di dare un'occhiata anche a quelle che sono le altre squadre. Non ancora. Allora oggi la prova comunque ha un significato relativo contro l'IBM United, ovviamente dovrete affrontare ancora tante squadre prima di poter certificare il vostro livello, ma ti voglio chiedere comunque quello che pensi della tua squadra in generale e dal punto di vista tecnico-tattico ma anche dal punto di vista del morale e dell'affiatamento. Siamo un'ottima squadra, la cosa più importante è che siamo molto affiatati sia nello spogliatoio sia in campo e ciò si dimostra sul campo e facciamo girare bene la palla, ci stiamo allenando per questo e speriamo continui ad andare così. Allora, sicuramente riunisco alle tue speranze. Un'ultima domanda per Jacopo Montella, dici anche due parole sulla tua prova personale. Sono molto contento, soddisfatto, penso di aver giocato bene, ho dato un grande contributo e speriamo di fare tanti gol. Allora, per me può bastare così, io rivolgo i miei complimenti a Montella della Tre Fontane e a tutti i suoi compagni. E allora, l'appuntamento è alle prossime partite. Grazie. Grazie.